siamo ad au, a kivi, no au, si au a kivi, e questi sono sette moai, questi sette moai che hanno l'uccello spero vi piaccia comunque innanzitutto questo giro, è l'isola di pasqua, un po' cazzuto, un po' cazzone, un po' così perché insomma le riprese le potete vedere tutte, quante, le fanno andando in televisione, le fanno del climangiaro, sti robbi qua, però commenti stupidi ed attenzione a quel livello ecco questi sette moai sono andati nel sud del lente durante le convenzioni e rappresentano i sette giovani che secondo la tradizione erano arrivati qui in ava scoperta prima del grande leader e colonizzatore dell'isola motu o tua questo è un po' di zecche qua o di tafani motivo per il quale lascio una videocamera ok